Nuova vita all'acqua di Fiugi che cambia veste in base alle rinnovate esigenze del mercato. Più piccolo, più grande, in vetro o in plastica, cambia il packaging ma non le sue proprietà benefiche. Abbiamo presentato quelle che sono le ultime novità nella produzione e commercializzazione di acqua Fiugi. Sicuramente la formulazione di una soluzione da mezzo litro in plastica è quello che ci caratterizza di più. È un po' un'innovazione storica per Fiugi che è sempre stata in vetro. Noi l'abbiamo percorsa, la stiamo percorrendo chiaramente a capo dopo di una serie di indagini sia di mercato che di carattere di laboratorio e di analisi. Per cui è un progetto che portiamo avanti da circa due anni. Oggi è arrivato a conclusione quindi ufficialmente entra in commercializzazione. Soluzioni pensate anche per il canale della ristorazione. Poi abbiamo la soluzione per quanto riguarda la commercializzazione sulla ristorazione con una 075 in cui c'è Fiugi e Spazio con operazioni di co-branding e di differenziazione dell'offerta. E poi la grande novità, Fiugi affiancherà l'attività dell'AS Roma per le prossime tre stagioni sportive fino al giugno del 2018. L'accordo di sponsorizzazione e co-marketing è basato anche sul comune interesse per i mercati internazionali e in particolare per quello degli Stati Uniti dove Fiugi è presente da quasi 100 anni. La prima scuola della Roma dunque utilizzerà acqua Fiugi durante gli allenamenti e in occasione delle partite casalinghe. Il marchio Fiugi che rappresenta anche le terme e il sistema turistico della città avrà quindi visibilità presso il centro di Trigoria, all'interno dello Stadio Olimpico, nelle aree di ospitalità e sul campo durante le partite nel campionato di Serie A e della Coppa Italia. In più abbiamo offerto anche la presentazione dell'acqua AS Roma che non è un'acqua prodotta da Fiugi ma è un'acqua commercializzata da Fiugi e che darà a Fiugi la massima visibilità in tutte le occasioni in cui la scuola di calcio Roma sarà presente. è un prodotto che commercializziamo soprattutto nell'area in cui la presenza di tifosi romanisti è più elevata, quindi la regione Lazio e Roma in zona limitrofe in particolare, poi vedremo quelle che saranno le occasioni ulteriori. È importante ribadire però che in tutte le occasioni ufficiali ci sarà acqua Fiugi e Fiugi sarà il marchio che pubblicizzerà la Roma.